Ciao, sono io, o almeno è come io mi vedo, ma in realtà sono così Ma se proprio dobbiamo essere realisti, sono tipo così Ehi, stai ritando, vuoi lasciarmi in pace? Oh, ehm, scusami, ti lascio in pace Grazie Vi chiederete sicuramente perché mi vedo come un orso colare, o forse no Però perché semplicemente ho le sue stesse caratteristiche Come dormire tutto il giorno O mangiare tutto il giorno, e anche tanto Ehm, ops Ma comunque la mia peculiarità è cazzare le mie prede Sì, 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 torta, viene a me Aio Beh, non va a finire sempre bene Oltre a fare questo, faccio video è doppio E questi sono, ed erano, i ragazzi che doppiavano Ciao, ciao Ehi, aspetta, dov'è l'amore mio? Ah, che fastidio Ehi, aspetta, hai appena colpito una persona, sei in arresto, per sempre Bene, credo che abbiamo finito Ehm, no, aspetta, non devi dire nient'altro sul tuo canale Ehm, che pazzo video, ehm, sono belli? Solo questo? Nient'altro da dire? Beh, sono anche divertenti? Ehm, ragazzi, è solamente un'altra palita su YouTube, andiamocene Ehi, aspetta, io non sono una palita, farò dei video bellissimi, ti prego, dai, aspetta, fermati, da un po' Ehi, aspetta, ma... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info